buongiorno a tutti oggi mi trovo a grancia sono al secondo piano di una palazzina di tre piani totali con sei appartamenti e quello che sto per mostrarvi è un appartamento di tre locali e mezzo arcando la soglia d'ingresso vi faccio vedere subito questo armadio a muro molto comodo sulla sinistra è subito davanti a me un caminetto funzionante inoltre abbiamo la zona giorno di 35 metri quadri circa molto luminosa con accesso diretto a una delle due terrazzine sulla parte destra invece possiamo vedere la cucina separata con questa ampia finestra e porta finestra che ci porta nella seconda terrazzina appartamento è stato ristrutturato recentemente possiamo vedere anche la cucina con tutte le comodità necessarie quindi lavastoviglie lavabo forno vetro ceramica per la cottura frigorifero di ottima marca e due cassetti il congelatore separato sulla destra andiamo nella seconda terrazzina di circa 8 metri quadri con vista sul verde e abbiamo già installata la tenda parasole appartamento disponibile da subito sono messi animali ci sono dei posteggi a disposizione la lavanderia condominiale e siamo nelle mie immediate vicinanze dell'imbocco autostradale del centro commerciale grancia quindi di tutti i negozi e tutti i comfort adesso vi porto nella zona notte e possiamo vedere davanti a me il bagno ristrutturato anche lui con wc lavabo enorme specchiera una comodissima finestra e vasca con predisposizione doccia andando sulla sinistra vi faccio vedere una delle due camere molto ampia di 16 metri quadri circa con una luminosa finestra pavimento in parquet e adesso vi porto nella seconda camera matrimoniale c'è la stessa metratura circa con doppia finestra una si porta anche lei nella terrazza più grande bene se volete venire a visionare questo luminoso e ristrutturato appartamento a grancia non esitate a contattarci per il momento è tutto grazie ti affitto grazie a tutti